La valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l'hotel Rigopiano provocando la morte di 29 persone non fu innescata dalle scosse di terremoto che quel giorno interessarono l'Abruzzo. Lo ha stabilito la sesta sezione del Tribunale Civile di Milano, che ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa della società proprietaria dell'albergo. Nella causa si invoca appunto il nesso di causalità tra sisma e valanga in riferimento a una pollizza riguardante i danni da terremoto. La tesi è stata pubblicata lo scorso 25 novembre dal sismologo Paolo Gasperini dell'Università di Bologna e dal nivologo Alessandro Barbolini dell'Università di Pavia. Il parere si basa sulla distanza tra l'epicentro del sisma, Monte Reale e il Monte Siella, sito da cui è partita la valanga. Per gli esperti, i 43 chilometri di distanza infatti sono troppi per giustificare il nesso tra terremoto e valanga. Una prima sentenza che potrebbe assumere carattere rilevante anche nel processo penale in corso di svolgimento a Pescara, visto che i periti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea ad ottobre presenteranno i risultati della perizia sul medesimo tema. Siamo contenti perché a cinque anni dalla tragedia di Rigopiano c'è una prima sentenza di un Tribunale della Repubblica Italiana, il commento di Gianluca Tanda, portavoce del Comitato Vittime Rigopiano. Un aspetto molto importante, assai dibattuto soprattutto nel processo penale in corso e al vaglio dei consulenti nominati dal GUP. Un esito che conferma le nostre convinzioni e cioè che la valanga non fu innescata dal terremoto. Questo è un primo pezzo di giustizia in memoria delle vittime di Rigopiano a cinque anni dalla tragedia.